Proseguiamo con i nostri incroci e ora andiamo a vedere l'incrocio numero 668. Qui abbiamo il veicolo C che prosegue diritto e ha la destra occupata dal veicolo N e veicolo S, quindi deve dare la precedenza a loro due. Spero che tu ti sia abituato o abituato a vedere che quando un veicolo arriva dall'alto, la sua destra è questa parte di qua che per noi sembra sinistra, ma in realtà è la destra del veicolo. Detto questo passiamo al veicolo N che è svolta a destra e ha la destra occupata dal veicolo S, mentre il veicolo S che prosegue leggermente a sinistra ha la destra, come puoi vedere, libera. Quindi l'ordine sarà S, N, C, quindi S per primo, ora N alla destra libera e infine C. Andiamo a vedere qualche quiz. Nell'incrocio rappresentato il veicolo N, che è il secondo, transita dopo il veicolo C, che è il terzo. Falso, transita prima del veicolo C e dopo il veicolo S. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, che è questo rosso, è vero che transita dopo il veicolo S, poiché è il secondo, ed è anche vero che sempre lui, il veicolo N, transita prima del veicolo C. Abbiamo terminato anche questo incrocio e ci vediamo nel prossimo video.